Oggi siamo a Donna e siamo in questo posto, partiamo da questo posto che è un luogo tragico e sacro allo stesso tempo. Qui sotto quest'albero che vedete la mattina del 6 aprile 2009 vennero portate le vittime del terremoto e in ricordo di quel giorno, negli mesi successivi, è stato realizzato questa sorta di sagrario. Come vedete qui c'è la madonnina, qui ci sono elementi che ricordano il paese, il vecchio centro storico e qui c'è una targa con le foto e con i nomi che ricordano le vittime di Donna. Adesso con i rappresentanti delle associazioni faremo il punto sulla ricostruzione, su quello che è stato fatto in questi anni, su quello che c'è da fare. Vincenzo Angelone è il presidente della Prologo di Donna, qui siamo in piazza, questa è piazza San Pietro che in realtà è piazza Umberto I, ma insomma è la piazza principale di Donna. Qui c'è un po' l'esempio di questa ricostruzione un po' a macchia di leopardo, c'è la chiesa qui ricostruita, dietro c'è un aggregato già ricostruito e poi il resto sono macerie. Ecco, a che punto è Vincenzo la ricostruzione di Donna? La ricostruzione è ancora, praticamente possiamo dire da iniziare, perché aggregati completati sono tre, però di tutti questi tre aggregati solamente una sola famiglia è rientrata. L'aggregato che abbiamo qua ancora non è completato, quindi dovrebbero finire i lavori, credo, entro l'anno, e poi il resto è tutto da costruire. Margherita Nardecchia Marzola, presidente della Unna Ollus, e Unna Ollus e le altre associazioni del paese stanno preparando un programma per commemorare le vittime e per ricordare quell'evento. Che cosa si sta facendo? Allora, noi stiamo cercando di mettere insieme un programma con degli eventi che siano il più possibile vicino ai sentimenti del paese di Unna e che rispecchino appunto la riconoscenza che questo paese ha verso tante persone che sono intervenute lasciando i loro affetti, il loro lavoro, la loro famiglia, sono intervenuti appunto a portare un sollievo alla popolazione di Unna. Qui siamo nella chiesa parrocchiale all'interno e con le immagini avete visto le principali opere d'arte che ci sono qui dentro. Adesso vi facciamo vedere la sorpresa, tra virgolette, che il terremoto ha riservato agli Onnesi. La scossa ha provocato il distacco dell'intonaco della controfacciata e sotto l'intonaco c'era questo affresco del 1300, naturalmente è parziale, ma si riconosce benissimo che è una crocifissione.